Allora, com'è andato SummerSlam su D-Max? È stato un successo o un flop? Ad oggi, me lo state chiedendo in tanti, io non so rispondervi. Non ho questi dati. Ci sono solo due persone con le quali parlo, alti dirigenti nell'organigramma di Warner Bros. Discovery, che possono darmi tali informazioni. Ma sono ambe due in ferie. E quindi, ad ora, anch'io, ho le caselle vuote. Poi magari mi diranno di stare zitto, decideranno di non divulgarli, come è già successo per la puntata di SmackDown che vi abbiamo proposto in Mondovisione, in anteprima, mondiale più che Mondovisione, prima del grande evento recente in Francia. Però, in questo istante, sbattete contro un muro. Non so niente. Non so niente neanch'io e sono curioso. Per quanto riguarda i social, abbiamo dei dati un po' altalenanti. L'unico misurabile, per certi versi, è Twitter, dove abbiamo esordito al settimo posto, in una serata difficile e problematica, perché in concomitanza con noi c'erano la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, le polemiche politiche e ovviamente tutti i temi legati al calcio, al mercato, alla Serie A, ormai alle porte e via dicendo. Poi però ci siamo un po' sgonfiati, l'ora successiva eravamo già attorno alla trentesima posizione e siamo rapidamente scomparsi. Io rimango dall'idea un po' malinconica che potremmo fare molto di più. Però sono anche conscio che D-Max targettizza un'utenza che sul web ci va poco e che quella del web, in larga parte, forse ormai non ha più interesse a guardare gli show in tv, nemmeno se il distacco fosse ridotto, perché si guarda in altri modi. Però mi rimane un po' quel e se. E se avessimo collaborato tutti? E se tutti iniziassero a collaborare? Ad ogni modo, ci sono dei treni che stanno passando. In America arrivano rumor incoraggianti, ma attenzione sono rumor, su una possibile presenza in Italia della WWE anche come Premium Live Event, vediamo che succede. Detto questo, cerchiamo di capire, cercherò di comprendere, anche se l'iniziativa del Premium Live Event su D-Max andrà avanti, oppure se terminerà con questo. Però, al momento, anch'io alzo le mani e dico, ragazzi, non mettetemi fretta, non azzannatemi, non saltatemi al collo, capisco, eh, quello che desiderate e il perché me lo chiedete, però non so niente. Una cosa, invece, la so con certezza ed è che io e Luca, anche quest'anno, torniamo a Pescara Comics. Ci saremo sabato 14 settembre, parteciperemo ad un'intervista e poi la sera dovrebbe esserci di nuovo lo show di wrestling italiano con ospiti internazionali al quale presteremo la voce. Quindi, se siete già venuti, avete visto che è divertente, che vi potete godere la manifestazione, che ha tantissimi altri ospiti, magari fare qualche acquisto a tema nerd, e poi avete i concerti e anche il nostro show. Se non ci siete mai venuti, può essere la volta buona per buttarci il naso. Tra l'altro, credo che i biglietti siano già in vendita e forse in questo periodo ci sono anche delle promozioni. Quindi acquistarli prima dovrebbe darvi una leggera convenienza. Nel caso, ci vediamo lì. Per il resto, su tutti i miei siti YouTube, su tutti i miei profili, in questo periodo sto pubblicando poco. Un po' per via del caldo, e faccio fatica a parlare in questa casa. Un po' perché sto pensando di rivedere molto, in maniera pesante, la mia presenza proprio su questa piattaforma. Ci sono delle cose nella mia vita un po' particolari, non dico critiche, ma particolari, di cui vi parlerò magari fra qualche mese. E quindi non è che me ne vado da YouTube, chiaramente, però devo un attimo capire come riorganizzarmi sulla base anche di quello che mi sta accadendo in generale. Dovrebbero ripartire tra poche settimane invece gli sbusti con le Trading Cards WWE in collaborazione con Carcore. È uscita la nuova collezione, Panini Prism 2024, probabilmente l'ultima da parte di questo produttore. I box stanno arrivando, quindi se li vedete in giro fermi tutti, ok? Perché tra poco saranno caricati a sito e sarà possibile acquistarli per le mie prossime live a tema. E stavolta avremo anche gli Hobby Box, quindi quelli pieni, completi, con una media di due autografi e un sacco di insert e parallele. Se vi interessa questo settore, mi raccomando di seguirmi anche sul profilo YouTube che ho aperto all'uopo, ad hoc, ok? Che è Michele Posa Pop. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qua, Michele Posa Pop. Quindi se vi interessa l'ambiente Trading Cards, vi aspetto lì anche perché ho necessità di aumentare sensibilmente gli iscritti per avere l'accesso ad alcune funzionalità supplettive che ti vengono date quando superi determinate soglie. E tutto qui. Oggi doppiamo in serata, facciamo la telecronaca, così domani a Ferragosto siamo liberi. Dunque adesso mi rilasso, mi riposo un po' e se vi va di parlare degli ultimi avvenimenti in casa WWE potete utilizzare i commenti un po' come se fossero un forum, soprattutto se non siete in vacanza, se siete a casa come me e non andate né al mare né in montagna, beh a questo punto parliamo un attimo di wrestling. Anzi, è qualche giorno che non lo faccio, dico la verità, e adesso la prossima mezz'oretta la passo a replicare a qualcuno dei vostri interventi, ok? Quindi se non vi ho dato soddisfazione nei giorni scorsi abbiate pazienza ma abbiamo avuto un sovraccarico di lavoro e anche poi ve lo ripeto l'estate nella mia abitazione è molto molto complicata. Dunque dita roventi vi aspetto come al solito nei commenti e lo ribadisco per quanto riguarda i dati di SummerSlam portate pazienza senza che in un modo o nell'altro che ci sia un veto o no qualcosa di ufficiale spero a breve di potervela dire. di potervela dire.